buongiornissimo seguaci ciao chiara oggi sarà una giornata un po' vuota perché c'è stata tanta auto però adesso andiamo a godafoss la cascata degli dei che ad ampiteatro l'ho già vista nel video dell'islanda del campo e mi piacerà molto perché è bella grande e particolare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Trova comunque tre tappe, zona Mivatn, quindi varie falde aquifere calde, tra cui quella in cui hanno filmato una scena del trono di spade in cui Jon Snow si tromba la rossa e sarà interessato. Come non detto, indovinate dove siamo, di nuovo vi tocco a rivedere qualcosa che avete già visto, però è sempre divertente perché ci sono io. Sì, perché siamo i geyser, che in realtà non sono geyser ma sono fumarole perché i geyser vanno a impulso, cioè scoppiano a un certo punto ma prima sono cammi, questi invece sono costanti. Sì, perché siamo i geyser. 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 Sì. 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 Sì.